ciao a tutti e ben ritrovati di nuovo su macraris sono aristide lappa innanzitutto grazie ai nostri consueti ascoltatori e anche a te che ci ascolti per la prima volta ci fa molto piacere in questo video power up vediamo come scattare delle foto e salvarle in un elenco di sharepoint tramite il controllo allegati e in ritorno visualizzare quelle foto scattate in una raccolta di power up prima di iniziare un piccolo spot su chi siamo a macraris nutriamo passione per il digitale e in questo spazio abbiamo piacere di condividere alcune delle nostre esperienze per contribuire a renderti agile in questa era high tech vediamo una breve demo delle funzionalità che andremo ad implementare in power up per scattare delle foto salvare in un elenco di sharepoint attraverso il controllo allegato e questo senza l'aiuto di power automate come abbiamo visto nei video precedenti scatto quindi alcune foto le possiamo visualizzare in questa raccolta in anteprima se una foto non mi piace posso andare a cliccare sul cestino per eliminare e a questo punto mi ritorna visibile la fotocamera quindi posso inserire solo tre foto se io voglio eliminare tutte le foto scattate in anteprima di un solo colpo vado a cliccare su svuota collection scatto nuovamente alcune immagini a questo punto sono pronto posso inserire una descrizione e quando la descrizione è buona posso andare a cliccare su salva immagine le immagini le foto vengono salvate in un elenco di sharepoint e in ritorno le posso visualizzare all'interno di una raccolta all'interno della mia app se non sono soddisfatto della foto posso eliminare dall'elenco di sharepoint cliccando su questo pulsante grazie intanto a resa dorani che ha condiviso questa tecnica e vediamo subito in power up come andare ad implementare o quantomeno imparare le funzionalità utili per poter realizzare qualcosa del genere sono quindi all'interno dell'app vediamo prima come ho configurato l'elenco di sharepoint dove salveremo le foto scattate con le informazioni andiamo qui in dati il mio elenco di sharepoint è questo vado in corrispondenza delle opzioni qui e faccio modifica dati per aprire il corrispondente elenco come puoi vedere qui ho osservazioni giorno di rilevazione e allegati il nome interno di osservazioni qui è title quindi pochi campi solo per far vedere la funzionalità che andremo ad implementare e questo è allegati quindi qui abbiamo un controllo allegati e faremo leva su questo controllo per salvare degli allegati se noi andiamo qui su nuovo e andiamo in corrispondenza di allegati qui vediamo che abbiamo la possibilità di poter aggiungere degli allegati ok ritorniamo quindi nella nostra app la prima cosa che facciamo è di inserire una fotocamera come abbiamo visto nel video precedente le basi della configurazione di una fotocamera inseriamo semplicemente una fotocamera andiamo in corrispondenza dell'evento on select auspicabilmente sarà in grado di riprodurre tutto quello che ho qui nella mia formula la prima cosa che faccio è di definire una variabile al cui interno vado a determinare il nome del file e il nome del file attribuisco alla variabile che si chiama dettaglio foto e qui vado ad inserire test la funzione now e la vado a formatare in questo modo quindi avrò sempre il nome del file formatato come anno mese giorno ora minuto secondo dopo questo chiudiamo qui la parentesi per la definizione della nostra variabile con set andiamo quindi a creare una collection una tabella locale dove salveremo di volta in volta le foto che scattiamo quindi definiamo la tabella locale con collect che in inglese il termine è collection diamo un nome un po come abbiamo visto nei video le basi dell'uso della fotocamera e qui all'interno per i record per i campi del nostro record andremo ad indicare queste colonne quindi avremo un display name e qui come ha indicato resa durani è molto importante inserire esattamente queste diciture se vogliamo far leva sul controllo allegati per salvare le foto oppure dei file quindi display name due punti e qui diciamo che è il nome che abbiamo definito all'interno di questa variabile con now per avere quindi il nome del file con questa nomenclatura quindi riprendiamo questa variabile era semplicemente per non ripetere ogni volta tutto questo che ho salvato all'interno della variabile così da recuperarla in modo molto più comodo abbiamo quindi qui dettaglio foto e commerciale e qui abbiamo l'estensione della foto che abbiamo scattato la foto avrà un id e qui è sempre dettaglio foto e commerciale punto jpeg e qui il valore il valore che dobbiamo attribuire a questa registrazione è la foto e la foto e utilizziamo la fotocamera e quindi qui siccome siamo sulla fotocamera utilizziamo self altrimenti possiamo sempre utilizzare il nome del controllo self è molto più comodo quindi inseriamo qui self punto foto queste sono le proprietà gli attributi che vanno con ogni foto che scattiamo e salviamo all'interno di questa tabella locale quindi questa è la prima implementazione che dobbiamo fare con questa implementazione alt se clicco qui ho qui all'interno la foto che ho scattato se noi andiamo in visualizza raccolte vediamo che qui abbiamo una tabella locale e qui sono le informazioni che abbiamo preso abbiamo display name id e il valore che è la foto che è scattata ok ritorniamo qui per poter visualizzare in anteprima queste foto che scattiamo andiamo qui e inseriamo una raccolta come si fa ad inserire una raccolta andiamo qui più e abbiamo qui raccolta verticale altrimenti andiamo qui sotto in layout e abbiamo diversi altri tipi di raccolta in questo caso ho inserito una raccolta orizzontale quindi questa per avere questo quando abbiamo inserito la raccolta orizzontale andiamo su questo seleziono questo vado su raccolta qui e qui come origine dati possiamo andare a scegliere qui l'origine dati tabellare di cui vogliamo visualizzare qui le informazioni perfetto all'interno di questa galleria ho inserito anche un pulsante quindi selezioniamo semplicemente questo e inseriamo all'interno il più che pulsante è cestino e questo cestino per poter visualizzare questo cestino intanto vediamo la proprietà on select di questo cestino quindi quando scatto una foto se non la voglio più visualizzare quindi scatto un'altra se non la voglio più visualizzare devo andare a cliccare sopra per eliminarla e per poter impostare questa proprietà devo andare in corrispondenza di on select e devo utilizzare la funzione remove devo indicare qui la raccolta come da suggerimento qui in alto punto virgola l'elemento da rimuovere l'elemento da rimuovere è semplicemente this item questo elemento ok quando poi non ho nessun elemento non viene visualizzato questo pulsante perché? perché in corrispondenza della proprietà visible quindi vado qui e inserisco visible ho inserito questa funzione che permette di regolare se visualizzarla oppure no e all'interno di questa funzione ho if count rows la funzione che conta il numero di righe della tabella locale col foto se è uguale a 0 allora qui è false altrimenti è true se non vuoi scomodarti a inserire false puoi anche inserire qui 0 e qui inserire 1 ok quindi a questo punto se vado a fare alt e clicco su questa non visualizzando nessun elemento e quindi non avendo nessun elemento all'interno di questa tabella locale perché la raccolta qui ci serve solo a visualizzare le informazioni che abbiamo nella raccolta non avendo niente qui non visualizziamo niente quindi questa è la nostra raccolta orizzontale inseriamo un'immagine così l'abbiamo ben presente qui e quando inseriamo delle informazioni se di un tratto vogliamo eliminare tutto quello che abbiamo inserito dalla nostra raccolta cosa facciamo andiamo in corrispondenza di svuota tabella locale e clicchiamo su questo per svuotarla completamente a questo punto abbiamo visto che quando arriviamo a tre foto automaticamente questo controllo fotocamera scompare perché in questo caso vogliamo dare solo la possibilità oppure mi sono immaginato lo scenario dove vogliamo registrare solo tre foto per articolo per esempio per fare questo quando vogliamo far apparire oppure fa scomparire dobbiamo subito pensare alla proprietà visible quindi andiamo in corrispondenza di visible di fotocamera e qui come puoi osservare è count rows la tabella locale in nome della tabella locale minore di 3 così appena arriva a 3 non soddisfa più la condizione a questo punto questa non è vera e quindi va a 0 quindi scompare quando abbiamo quindi scattato tutte le nostre foto ok siamo pronti per salvarli ma per salvarli come ho detto inizialmente abbiamo bisogno del controllo allegato ma il controllo allegato come abbiamo visto in un video precedente si trova all'interno del controllo modulo e si trova esclusivamente all'interno del controllo modulo siccome per questo video non vogliamo utilizzare power automate vuol dire che andremo a fare leva proprio sulla proprietà dei moduli e qui ho un modulo che ho inserito che è nascosto andiamo a far visualizzare questo modulo per vedere come interagisce vado quindi in corrispondenza di questo modulo che seleziono qui e questo modulo lo vado a far visualizzare visible e inserisco qui uno all'interno di questo modulo come puoi osservare ho un controllo che ha tre immagini le tre immagini sono state inserite all'interno di questo controllo come? ti faccio vedere prima le diverse funzionalità da settare e ti faccio vedere un po' più velocemente come impostare questo controllo visto che è quello un po' più macchinoso allora quindi qui abbiamo un modulo che abbiamo inserito per inserire un modulo sai già come fare quando abbiamo questo modulo lo dobbiamo collegare alla nostra origine dati e per collegare alla nostra origine dati andiamo qui selezionando il modulo andiamo qui e abbiamo qui origine dati attualmente lo sto collegando a immagini nel nostro elenco dove dobbiamo salvare le foto quando l'abbiamo collegato a questo andiamo in corrispondenza di modifica campi e qui togliamo tutti gli altri campi trane controllo allegato controllo attachment controllo attachment e qui rappresentato personalizzato perché ho tolto il lucchetto questo è lo scenario che sto rappresentando perché potresti nel tuo scenario inserire direttamente i campi all'interno del modulo ma nel mio scenario come mi sono immaginato sto facendo semplicemente leva su questo controllo allegato ma non voglio utilizzarlo per salvare per inserire altre informazioni quando ho inserito questo vado in corrispondenza di modulo vado in attachment e il controllo che si trova all'interno del mio modulo e in corrispondenza di attachment quando vengono salvati i dati quindi quando farò il submit form andrò a caricare le foto che sono qui presenti e sono col foto perché li prende dalla nostra tabella locale che chiamiamo col foto e qui li visualizziamo quindi utilizzerà questo controllo per salvare l'immagine in sharepoint non è sufficiente devo andare in corrispondenza della data card value perché è questo che contiene il valore in corrispondenza di data card value devo andare in items e inserire col foto perché il controllo allegato ha come proprietà items per gli elementi che devono essere inclusi al suo interno dopo questo potrebbe essere importante settare anche il default e il default che abbiamo qui è sempre col foto qui non lo vediamo inserisco col foto ok non è soddisfatto di quello che ho inserito quindi qui facciamo prima a lasciarlo vuoto quindi questo è per quanto riguarda il controllo allegati ora ti faccio vedere velocemente come inserirlo andiamo ad inserire un modulo di modifica questo è il nostro modulo di modifica andiamo a collegarlo ha sempre immagine quindi abbiamo qui immagine viene popolato questi sono i nostri campi che abbiamo nell'elenco andiamo in corrispondenza di modifica campi e possiamo togliere questi che non ci servono rimuovi e qui abbiamo rimuovi ci rimane solo attachment chiudiamo questo ancora il lucchetto che possiamo togliere quindi selezioniamo questo vediamo che c'è il lucchetto andiamo in avanzate togliamo il lucchetto quando abbiamo tolto il lucchetto andiamo in corrispondenza di items e invece di parent punto default inseriamo qui col foto ok andiamo nuovamente in corrispondenza qui visualizza struttura e qui in corrispondenza di attachment andiamo qui e diciamo che update qui avremo col foto e in questo modo abbiamo la configurazione che ho spiegato prima ok quindi questo selezione vado a eliminare semplicemente e ritorniamo alla nostra demo una volta che abbiamo questo siccome non è la nostra intenzione utilizzare questo modulo andiamo solo a nasconderlo ma sarà utile poi per salvare le informazioni andiamo quindi a selezionare il modulo quindi seleziono il modulo ritorno in corrispondenza di visible e qui inserisco 0 a questo punto siamo pronti dobbiamo poter salvare già le nostre informazioni per fare questo abbiamo bisogno del pulsante salva immagine che qui ho nascosto quindi vado a visible e inserisco qui 1 ok quindi abbiamo questo qui che posiziono qui in corrispondenza di salva immagine questo pulsante andiamo sul suo on select e sul suo on select abbiamo tutto questo quindi la prima cosa che facciamo è di submit form perché i nostri allegati si trovano all'interno del modulo che abbiamo appena visto quindi utilizziamo il submit form il nome del modulo il nostro modulo si chiama questo il nome del modulo siccome vogliamo inserire un'altra azione inseriamo questo e qui abbiamo patch intanto vado anche a far visualizzare questo testo che permette di inserire le osservazioni quindi vado a selezionare questo in corrispondenza del suo visible e inserisco qui 1 per dire true ritorniamo sul pulsante salva immagini qui abbiamo submit form patch quindi andiamo qui a fare la patch una volta che abbiamo salvato le immagini andiamo a fare con patch per inserire informazioni addizionali e qui in corrispondenza di patch abbiamo title due punti inseriamo l'elemento che è stato incluso qui all'interno giorno di rilevazione è sempre il giorno in cui stiamo scattando la foto e qui andiamo a svuotare la nostra tabella locale qui puoi vedere che utilizzo una funzione che è select per dire che a questo punto vai a selezionare questo pulsante e selezionando premendo virtualmente su questo pulsante ci svuota la tabella locale e a questo punto siamo pronti a ripartire reset form permette di svuotare gli allegati così da poter inserire nuove foto e qui abbiamo reset txt osservazioni che semplicemente resettare questo controllo una volta che abbiamo fatto questo siamo pronti per salvare la nostra foto e qui abbiamo pronti e a questo punto vado a cliccare salva immagine dopo qualche istante avrò le immagini le foto salvate in elenco di sharepoint e prontamente sono visualizzabili qui qui posso solo ingrandire avevamo due foto mi pare perché qui ne vedo solo due se andiamo nel nostro elenco di sharepoint vediamo che qui abbiamo le informazioni se le vogliamo visualizzare andiamo qui e clicchiamo su questo e abbiamo qui sono due allegati ok ritorniamo qui e per ultimo vediamo come facciamo a visualizzare queste informazioni che sono all'interno di questo allegato quindi questi due allegati per fare questo qui abbiamo bisogno di una raccolta e quindi qui ho inserito una raccolta principale questa la prima raccolta che ho inserito qui è una raccolta verticale e in questa raccolta quando andiamo qui vediamo qui items il nome è l'elenco di sharepoint quindi vogliamo visualizzare tutte le informazioni che abbiamo all'interno del nostro elenco di sharepoint e per inserire questi elementi all'interno per visualizzare ad esempio una foto la prima foto qui all'interno della legato vado qui in corrispondenza corrispondenza di questo riquadro immagini e qui puoi vedere che in corrispondenza di image ho la funzione first this item.attachment quindi first per dire prendimi il primo elemento della matrice degli elementi che sono all'interno degli allegati .value se ricordi bene .value è proprio la foto poi qui prendiamo semplicemente il giorno quindi andiamo a formatare con test e qui abbiamo il titolo con this item.titel la seconda cosa più interessante qui qui è la possibilità di poter inserire una raccolta all'interno di un'altra raccolta e per fare questo per visualizzare queste informazioni ho inserito qui una raccolta secondaria per inserire una raccolta secondaria vai a selezionare il primo elemento come questo vai qui su più e vai qui e inserisci una raccolta questa raccolta che ho inserito adesso viene inserita e qui puoi vedere che viene inserita qui all'interno deve essere all'interno di questa raccolta perché se ha lo stesso livello vuol dire che non l'hai inserito all'interno motivo per il quale ti suggerisco prima di selezionare questo e di inserire la raccolta una volta che hai inserito la raccolta la puoi dimensionare all'interno vado a togliere questa la puoi dimensionare all'interno e ottenere ad esempio questo questo semplicemente ridimensionato qui è una raccolta orizzontale e qui per visualizzare le informazioni andiamo prima in corrispondenza di items come sempre e diciamo che sono tutti gli elementi di attachment quindi facciamo this item.attachments per visualizzare il singolo elemento selezioniamo il primo elemento della raccolta e sai già che quando configuriamo il primo elemento valgono poi per gli altri elementi perché facciamo leva più sul concetto di this item questo elemento a questo punto in corrispondenza di questo elemento andiamo semplicemente a mettere this item.value e lì otteniamo il nostro risultato qui abbiamo semplicemente un pulsante che permette di rimuovere tutto questo elemento dal nostro elenco di SharePoint e eventualmente possiamo anche fare visualizzare o non visualizzare questo elemento con una formula del genere ti ringrazio per l'attenzione tre piccole azioni per sostenere Macraris e per noi di grande valore metti un mi piace registrati al canale e attiva il campanellino per essere avvisato quando postiamo nuovi video grazie grazie